Ora tu stai facendo una campagna contro perché tu stesso hai cercato di viverti una storiella d'amore con il nostro Francesco anche con Zenga se vogliamo avresti potuto fare qualcosa se lui ci fosse stato perché sei così contrario a una coppia che comunque nasce, vive e quello che sarà dopo saranno cavolacci loro o dobbiamo stare qui noi a sindacare, no non fare questo perché poi c'è un figlio e quindi, e quindi Pierpaolo Eccomi Mi piace anche tu Basta Antonella sei troppo zuccherosa come risponde Tommaso Non avrei mai pensato di doverti dire una cosa del genere Cosa risponde Tommaso a questa accusa di Antonella? Ma no, ma io non penso di aver fatto un percorso dentro al grande fratello mirato a canirmi contro delle persone per farle fuori cioè mi sembra un po' esagerato Io esprimo le mie opinioni, i miei pareri anche se vuoi poco comodi perché Giulia comunque è una mia amica quindi non avrei nessuna intenzione Ecco appunto Ah vabbè ho capito Prima dici che non è tua amica, mo è tua amica Ma scusa, bisogna anche regolarsi nella vita È una tua amica? È una mia amica, non è la mia migliore amica Non è la persona che chiamo quando sono in difficoltà Ci sono tanti tipi di amicizia, non è quella che sa tutti gli affaracci miei e viceversa Ciao a tutti Grazie a tutti